In occasione dell'8 marzo, che quest'anno è coinciso anche con il settantesimo anniversario del voto alle donne e con i vent'anni della consulta elette, il Consiglio regionale ha promosso la proiezione per le scuole in 13 sale del Piemonte del film Suffragette, che rievoca la battaglia per il voto alle donne combattuta negli anni venti del Novecento dall'attivista politica inglese Hamelin Pankhurst. Prima del film è stato proiettato un videomessaggio delle consigliere regionali. Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Lascaris è stato illustrato anche il programma di attività della consulta. Quest'anno il programma della consulta delle elette è incentrato particolarmente sul settantesimo anno del voto alle donne. Tra le iniziative ricordiamo la proiezione del film Suffragette, la partecipazione della consulta delle elette alla ventinovesima edizione del Salone del Libro di Torino e sarà nostra ospite Rita e il Cajat. Ancora un'altra iniziativa importante sarà a luglio in occasione del ventennale della consulta delle elette. Stiamo organizzando dei progetti e delle iniziative proprio in occasione di questa ricorrenza per noi particolare e importante. Grazie. Grazie.